A distanza di un anno dalla chiusura dell'ex Carducci a causa di problemi statici arrivano buone notizie per la struttura che ospitava il liceo Nolfi a Fano. A darne l'annuncio è il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Renato Claudio Minardi, che comunica l'arrivo di 6 milioni di euro per l'edificio scolastico. A farsi carico della progettazione e ricostruzione dell'immobile sarà l'Inail. Il problema del Carducci è un problema che è capitato alla comunità di Fano e non solo fanese lo scorso mese di agosto con l'improvvisa chiusura e l'impossibilità addirittura di recuperare l'edificio neanche con dei lavori di messa in sicurezza. Quindi Carducci sappiamo che dovrà essere demolito. Ci siamo messi subito all'opera, al lavoro per cercare di trovare le risorse necessarie per la ricostruzione del Carducci, ovviamente per dare garanzia alla scuola, agli studenti, per dare una scuola sicura, ma anche per evitare lo spostamento degli studenti e degli insegnanti nella città in altri edifici. Abbiamo verificato diverse soluzioni, spiega Minardi che ha seguito la vicenda sin dall'inizio, tra queste la graduatoria sull'edilizia scolastica, ma i tempi sarebbero stati troppo lunghi visto che la programmazione riguarda il triennio 2021-2023. È stata vagliata poi anche la graduatoria riferita alle quattro regioni colpite dal sisma, ma non c'è stato un incremento di risorse da parte dello Stato. Ci siamo dati da fare invece per una cifra residua che erano i fondi INAIL che passano attraverso la regione per l'edilizia scolastica. Abbiamo rifatto una procedura e la provincia di Pesaro Urbino si vedrà in queste ore assegnati i 6 milioni di euro che servono per la ricostruzione del Carducci, con l'obiettivo che l'INAIL progetta, realizza la scuola e la consegna chiave in mano. Quindi di fatto l'INAIL con i 6 milioni che avrà disponibili potrà realizzare la nuova scuola del Carducci su un'area disponibile che dovrà essere assegnata in accordo fra provincia e comune e l'INAIL consegnerà alla scuola chiave in mano facendosi carico anche delle straordinarie manutenzioni e anche delle ordinarie, in cambio ovviamente di un canone di locazione.